buongiorno a tutti ragazze e ragazzi oggi sono ritornata qui con un nuovo video oggi apriremo una blind bag allora ho aperto ho comprato in edicola questi che sono gli animals mega squali sono mega e detto c'è un gel gel edition vedete e costano 350 sicuramente ne comprerò altri perché mi piacciono qui c'è scritto contiene uno un mega squalo più il magazine la confezione e il prezzo di rivista con i gadget sono di 3,50 euro bellissima confezione della di amiche ok intanto ora prendermi la forbice torno subito ok ragazzi ho preso la forbice ovviamente nel prossimo spacchettamento non ci sarà questa forbice qua ci sarà la forbice ufficiale quindi inizio ad aprire allora prima prendo il magazine dopo prendo il gadget il squalo ah è un significato di dirvi che qua sotto c'è la checklist forse c'è anche dentro nel librettino guardate guardate non subito non ho già aperto bene io sono molto curiosa quindi sto aprendo anche oddio sta prendendo ok ecco c'è questo librettino qui parla un po degli animali vedete un po di curiosità sul mare eccetera vedete un po di curiosità qui c'è tutta la checklist e invece questo qua è lo speciale perché si illumina il buio qui c'è anche un disegno di un squalo altri e invece questo qua è speciale perché si illumina il buio e anche questo qua perché le E poi un'altra curiosità Curiosità sugli squali Eccetera E qua ci sono anche questi Che non ho ancora preso Ma ho visto che qualcuno l'ha preso Però sicuramente li prenderò Ok vediamo che cosa ho trovato Oddio ragazzi Guardate Quello ho trovato Adesso guarda Uno squalo bellissimo Guardate quanto è bello Oddio ragazzi è super morbido Intanto guarda qual è Dammi vuole vedere che squalo Allora la squala balena Ello Credo che secondo me è questo No non ci posso credere Ho trovato quello speciale Che si illumina il buio Questo ho trovato Lo vedete Ho trovato uno speciale Che si illumina il buio Non so se praticamente è lui Però adesso riguardo Per vedere se è lui Adesso guardo se è lui Non so se questo qua è È o lo squalo volpe Ma in realtà con l'oligrigio Oppure è lo squalo Azzurro Secondo me è lo squalo Azzurro Perché vedete che è azzurro E si illumina il buio Che bello Ho trovato uno speciale Bellissimo Se volete adesso andiamo di là Per vedere se si illumina Spengo le luci E adesso vedremo se si illumina il buio Oppure no Torno subito Ok ragazzi Vedo che non si sta Praticamente Illuminando il buio Più o meno si illumina Più o meno ragazzi Non è che si illumina tantissimo Prima quando l'ho messo là Ho visto che si illuminava un pochino Però E dai ragazzi Provo a dargli un po' di luce Allora ragazzi Provo a fare una cosa Allora Voglio provarci a metterci la torcia Dai ragazzi Più o meno Ho visto che si illumina Dai Io lo dico che si illumina Non so perché Prima quando l'ho messo al sole Si illuminava Ma non si illumina tantissimo Ragazzi Se tipo chiudi gli occhi Vedo che un pochino si illumina Torno subito Ok ragazzi Ho riuscito la luce E non si è illuminato Precisamente tantissimo Ma adesso ci riproviamo Ragazzi Ecco guardate Questo è il risultato Non è che si Non è che non si illumina Però un pochino Più o meno si illumina Dai Tipo lo metto qua E si illumina Vedo che si illumina No ragazzi Ovviamente D'altro Non si è possibile Però in realtà si illumina Ed è veramente bellissimo Ok ragazzi Adesso vedo se c'è qualcosa Qua dentro No Vuoto È bellissimo ragazzi Ho trovato uno speciale Questo qua Qual era? Io praticamente ho trovato questo E in realtà E in realtà Pensavo che Questo qua Era uno dei miei preferiti Realmente ragazzi Ho trovato uno dei miei preferiti Io lo dedico Allora Intanto Da sotto al voto Questa blime È qua Praticamente ragazzi Qui si riconosceva Che era lo squalo C'è Vi faccio anche vedere Vi dico anche perché si riconosceva da squalo Ora ve lo faccio vedere Aspettate Allora vediamo se trovo il disegno Perché qui c'era la foto dello squalo Ovvio che era lo squalo Eh Eccolo Squalo azzurro Qui c'era scritto che cosa si trovava E anche qua Anche qua sopra Qui Tipo Andate qua nella checklist Vedete Girate E scoprirete chi è il personaggio È lo squalo azzurro Quindi Eccolo Il voto che do a questa blind bag Veramente ragazzi Sicuramente li comprerò tantissimi altri Perché questi qua sono degli squishy 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 Animals Mega squali Già Questi qua sono squishy animals Mega squali Io ve li straconsiglio No veramente però Peccato che Non Si è Tanto Tanto Illuminato al buio E questa roba qua Mi Sono rimasto un po' delusa Perché Ho trovato quello speciale Sono rimasta contentissima Però dopo ho visto che non si illuminava Sentite Sentite Guardate No ragazzi L'ottizia troppo Troppo Se la foto si rompe Il voto che do a questa blind bag Dei animals mega squali Questa È di O È di Di Nove È di nove ragazzi Non l'ho dato dieci Perché Praticamente Il dettaglio Veramente Sembra Un vero squalo Dopo Volevo provare a fare un esperimento Volevo provare a mettere questo squalo qua Dentro una boccia Io avevo un pesce Però mi è morto E praticamente Volevo metterci questo squalo qua Volevo vedere che cosa succede Dopo ci proverò Prenderò una ciotola grande Trasparente Provo a metterci dentro questo qua Secondo voi Esplode Ragazzi Vi dico qual era Il mio non preferito Era Aspetta Vedete questo Questo vedete Questo qua Che sto premendo Quello era Perché veramente È grigio E sopra via È tutto verde Schifosissimo Non mi piace Quindi Sono rimasta contenta Però Sono rimasta delusa Perché non si illumina Cioè Ci sono tutti i dettagli Guardate Si vedono anche di denti Qua Ovviamente L'occhio È fatto benissimo C'è stato un Sbaglio di dettaglio Perché vedete Che qui c'ha Questa lineetta qua E qui non ce l'ha E sono rimasta delusa Anche per questo E sono rimasta delusa Perché non si Illuminava E questa roba qua Mi è rimasta Veramente delusa Perché Non si è illuminata Peccato Però Se troverò Ad esempio Questo Coloro Vedremo se si illumina Il buio Perché se non si illumina Veramente Mi metto a piangere Ragazzi Volete che io Ne tagli uno Se tipo Li prendo tu Li prendo tu Se tipo La prossima volta Ne trovo Un doppione Voglio provare A tagliarlo Per vedere Cosa Che Cosa contengono Se l'altra volta Troverò un doppione Oppure Così Tengo quello Che c'è dentro Quindi ragazzi Intanto Questa qua La carta Vabbè Quindi ragazzi Questo era il video Spero che vi sia piaciuto Vi è piaciuto Tantissimo Iscrivetevi A Instagram Angelica Borghi 2007 Su musical Ricciato Angelica Borghi Kawaii Su Facebook Angelica Borghi Su Google Angelica Borghi Ovviamente Su Youtube Angelica Kawaii Quindi ragazzi Io vi saluto Mi saluto così E ci vediamo Nella prossimo Video Oppure La live Stasera farò La live Ma vabbè Ciao Vi saluto Anche il mio Squaletto E vi ricordo Che Il mio Secondo canale Si chiama CloverOfficial Che Poi Quello lì Non sarebbe Il mio Secondo canale In cui pubblicherò Foto Del mio Coniglietto Clover Quindi Ciao Anche La mia Stasera Vi saluta E vi saluta La mia Mascotte La mia Mascotte Mortina Anche se Oggi Non è qui In video Però Comunque Vi saluta Ciao Tutti Anche la Scuola Vi saluta Ciao